Da oggi anche a Piacenza parte a pieno regime la campagna di vaccinazione anti-covid. In tutta la regione Emilia-Romagna si prevedono 50.000 somministrazioni alla settimana. Destinate oggi alla nostra città altre dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, così da completare l'erogazione entro il 25 gennaio a medici, infermieri, operatori e ospiti delle case di riposo per anziani. A livello locale in totale le dosi raggiungeranno quota 15.000 per questa prima fase di vaccinazione. A Piacenza il punto indicato dall'ASL per la somministrazione e il laboratorio analisi dell'ospedale Guglielmo da Saliceto. In successive giornate saranno completate tutte le consegne di gennaio. Dopo quella di stamattina si proseguirà nelle giornate dell'11, 18 e 25. Gli arrivi delle confezioni di vaccino continueranno anche a febbraio per consentire l'erogazione di due dosi a distanza di una ventina di giorni l'una dall'altra. Ad oggi in Emilia-Romagna sono quasi 8.000 le persone già vaccinate e la regione comunica che a marzo si partirà con la campagna vaccinale per tutto il resto della popolazione.